Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta. Come sapete ormai di venerdì la seconda parte della nostra trasmissione diventa Trieste d'arte, quindi poi oggi, subito dopo le 18, magari poi se la regia mi avverte anche quando, perché tutte queste cose succedono quando si è assolutamente in diretta, ci si dimentica delle volte di chiedere fino a che ora si deve andare avanti. Comunque questa puntata di Trieste d'arte è dedicata ancora una volta al Museo Winkelmann, che è davvero un tesoro della città e nella fattispecie alla collezione Maya, che ha una storia tutta particolare che riguarda un triestino. Poi la dottoressa Vidulli ce la racconta, quindi rimanete sintonizzati perché vale veramente la pena e per vedere questi reperti ma anche per ascoltare questa storia. Nella prima parte invece siamo ospiti, cioè è il nostro ospite il dottor Edwin Beuch, che è il responsabile dei servizi alle imprese del BIC o della BIC? No, della BIC uno pensa alla penna. Siamo stati spesso confusi, sì, penne e lamette. Tanto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Diciamo del BIC, con il quale parleremo di una serie di iniziative che al BIC fanno capo, ma parleremo anche poi del BIC per sé, perché è una di quelle realtà che la maggior parte dei triestini conoscono, ma che forse ogni tanto ha bisogno di un ripasso per certi aspetti, perché verrebbe da dire, mi correga se sbaglio, ringraziando il Dio, tra BIC, Mib, l'area di ricerca e altre realtà scientifiche ed economiche, la città ne è abbastanza piena e forse delle volte anche, come dire, comprensibilmente si fa un pochettino di confusione. Insomma, quantomeno per le sigle consimili, eccetera. BIC esiste dal 1989. Sì, diciamo, la società è stata costituita nel 1987 su iniziativa dell'IRI e su anche iniziativa dell'ingegnere Zacchinia, che dunque avevano deciso di creare questi incubatori di imprese. Noi, diciamo, siamo il primo in Italia che è stato costituito, noi o Genova, c'è sempre questo accorso, non abbiamo ancora mai definito con Genova. Sempre con Genova, tra l'altro, in parecchie cose siamo contrapposti con Genova. Quella volta l'IRI aveva deciso di costituire questi incubatori e la società del 1989, le prime imprese sono entrate, la società del 1987, scusi, le prime imprese sono entrate l'89, quindi abbiamo una storia di 34 anni di cui, se penso, io ne faccio parte per due terzi perché sono da 23 anni al BIC, insomma, non l'ho vista nascere il BIC, però insomma, negli ultimi anni sicuramente l'ho accompagnata e dall'89 in poi sono passate più di 200 imprese nate, sviluppate, le più famose probabilmente si conoscono qui a Trieste che è la ItalTBS che insomma è nata proprio al BIC su iniziativa dell'ingegnere Diego Bravar e poi ad esempio un'altra società anche famosa che da poche persone è diventata un colosso dell'informatica, la EURIS e poi tutta una serie di piccole imprese, IMEIS, Innova e tutto questo, ecco. Dall'89 fino allo scorso anno l'impresa, il BIC era pubblico, prima IRI e poi Invitaglia, sviluppate Invitaglia, poi dal 2009 Friulia, Friulia è la finanziaria regionale e da aprile lo scorso anno la Friulia ha ceduto le quote e siamo per la prima volta nella storia del BIC che è diventato privato ed è stato acquisito da Biovalle Investment Group che fa capo all'ingegnere Diego Bravar che così è ritornato al BIC in un'altra veste però sempre con la voglia e l'entusiasmo di aiutare l'imprenditorialità triestina e regionale. Ecco, a me piace un po' storicizzare, mi trovo sempre nella condizione, probabilmente perché ho una certa età e lavoro con colleghi più giovani, ma mi trovo sempre nella condizione di storicizzare, cioè di dovere, come posso dire, raccontare quello che era, quello che erano determinate realtà. Perché nell'87 si pensò ad una realtà come BIC? Cioè che lei magari non c'era però insomma, perché c'era bisogno di tutto ciò? Allora, la leggenda narra, perché qui davvero questa mi è stata tramandata da chi che a suo tempo Liri, che era preseduta da Romano Prodi, fece un viaggio negli Stati Uniti, lì vide questi incubatori di imprese, si innamorò, ovvero disse, è una buona idea, possono aiutare l'imprenditorialità, abbiamo delle zone che sono un po' malmesse in Italia e quindi forse con questi incubatori di imprese che devono aiutare a creare imprese, a far crescere le imprese, forse potremmo dare una mano all'imprenditorialità e in quel momento, fine anni 80, si erano individuati Trieste e Genova come delle zone con grave crisi industriale e quindi si è deciso di fare così, è stato acquisito l'ex filiera olcese, perché la sede del BIC è da sempre in Via Flavia, 23, e quindi si è ristrutturato e come ho detto si sono aperte le porte nell'89 e alla presenza anche del Ministro dell'Industria, che adesso mi sfugge il nome, perché ho trovato un articolo addirittura, e poi se mi posso permettere che lei ha detto anche prima Mib Area, il Mib ha avuto anche all'inizio della sua storia anche una sede proprio al BIC, nella palazzina fuori, quindi c'è questo legame… Probabile che sia per questo che io abbia in qualche modo confuso… Noi siamo ancora soci del Mib, insomma abbiamo dei rapporti, beh Trieste è piccola… Come si è andata evolvendo nel tempo l'attività appunto del BIC, che tra l'altro l'acronimo sta per… Business Innovation Center, e questo se qualcuno prende l'autobus 20 o 21 da Trieste verso Muggia o Borgo San Sergio, in Via Flavia c'è proprio la fermata Via Flavia Business Innovation Center, così giusto per non… ci si può addormentare e poi vedere quelle lì, ma la storia dunque è nata per creare imprenditorialità, si sono sviluppate, l'incubatore non è settoriale, ovvero al momento sono presenti imprese che si occupano di… noi li abbiamo suddivise in quattro settori principali, ma ICT dunque Information Communication Technology insomma digitale, poi biotecnologie, ovviamente adesso sempre di più anche con la presenza di biovali, tecnologie marittime, insomma siamo città di mare, poi c'è energia e ambiente e l'ultimo che è quello che poi approfondiremo durante questo incontro è cultura, creatività e turismo, dunque negli ultimi anni grazie al fatto che abbiamo collaborato a vari bandi abbiamo accompagnato tutta una serie di iniziative, progetti beneficiari e società in questo settore ecco. E ancora una cosa sulla storia del BIC, il BIC come ho detto dell'89 si è sviluppato, ha avuto anche altre filiali perché c'era anche un incubatore gestito da BIC, incubatore Trieste a Gorizia, l'autoporto e ben due a Spilimbergo, poi questo qui è stato sono stati ceduti, sono stati anzi non erano mai di proprietà solo l'incubatore di Trieste di proprietà di BIC, gli altri sono stati gestiti e adesso è rimasto il BIC a Trieste con 50 imprese, circa 350 dipendenti ovviamente in questo momento ci sono ancora imprese che lavorano nel smart working perciò non c'è questo via vai che c'era una volta, insomma una volta due anni fa. Però è interessante il lapsus, nel senso sembra veramente di parlare di un tempo molto remoto. Sì anche perché personalmente è cambiato molto la mia attività perché dal fatto del passaggio dalla Friulia a Biobali Investment è stato anche perché ci siamo trovati circa 20 anni fa, eravamo in 15, poi in 7, poi in 3 e poi nel momento dell'acquisizione sono rimasto l'unico dipendente supportato da Friulia e poi ovviamente in questo anno e mezzo di gestione di BIO Valley c'è stato una delle cose più visibili, l'incremento dell'organico, infatti adesso siamo in 6. C'è anche questo da dire, nel senso che o quantomeno è un discorso che viene fatto abbastanza spesso, c'è come posso dire una tendenza notevole ed importante appunto di nuove realtà che vengono sviluppate anche grazie appunto a realtà come BIC, di fronte ad una, uso questo termine che mi costa ad operarlo, di fronte ad una narrazione che vede Trieste forse non troppo attenta, diciamo, non è nemmeno troppo attenta, poco abituata dai a queste cose o che, forse ancora meglio, che riflette meno di quanto dovrebbe su questa realtà. Sì, sono d'accordo su questo, il BIC è conosciuto negli ambienti preentoriali però probabilmente se andiamo in centro città e chiediamo alle persone, conoscete il BIC, sicuramente le penne, le lamette, è una classica risposta, eccolo. Poi magari invece qualche società viene, si sa che esiste e poi è presente al BIC, ah ok, il BIC è questo qui, ecco diciamo che a volte abbiamo difficoltà a spiegare cosa è il BIC e cosa facciamo, ecco, incubatore di imprese, insomma aiutiamo le imprese, supportiamo, ecco anche il fatto di incubatore di imprese è anche a volte difficile capire insomma. Però poi dopo è anche giusto, adesso sotto certi aspetti come dire che nell'immaginario collettivo l'impresa non è che si stacchi dall'incubatore ma assuma una realtà autonoma e quindi credo che sia poi anche questo ciò a cui voi guardate. Sì, diciamo che l'incubatore dovrebbe aiutare proprio in quella fase iniziale che è la più difficile dando degli spazi, noi diamo a disposizione dei spazi già attrezzati perché puoi immaginarsi uno ha un'impresa, deve cercare il posto, deve fare gli rilacciamenti, deve il telefono, invece da noi trova già gli ambienti pronti, non arredati ma con tutti i rilacciamenti o quanto quindi io dico sempre che nel momento in cui gli diamo la chiave ovvero il BIC per entrare con una sedia ha già il telefono e può iniziare già a lavorare, ecco quindi questo è sicuramente il vantaggio, poi gli si accompagna e dopo un certo periodo abbiamo adesso la media sui 4 anni, 4 anni e mezzo di permanenza, non ne ho che ci sono società che sono un po' di più perché forse si trovano molto bene da noi, escono e proseguono la loro storia autonomamente fuori e quello che ci fa piacere è qualche volta qualche ex dipendente che si stacca da queste società che sono nate al BIC, dice ho creato la mia società, siccome mi sono trovato bene al BIC, questo diciamo dà un po' di soddisfazione. Mi perdoni perché adesso mi incuriosisce, negli anni proprio della pandemia il ruolo del BIC si è leggermente modificato, come avete lavorato? Abbiamo lavorato sempre perché il BIC, questo stupisce più di qualcuno, è sempre aperto tranne le feste, insomma noi non abbiamo fatto le ferie estive, ci siamo alternati come dipendenti quindi è sempre aperto, abbiamo sempre lavorato durante la pandemia, abbiamo visto un grosso calo di presenze perché come ho detto 350 persone nel culmine della pandemia due anni e mezzo fa, forse ce ne erano 50 al giorno, questo è anche la mensa, perché abbiamo anche l'interno della mensa è passata da 100 passapasti a 20 pasti, anzi era per un periodo che era addirittura chiusa, poi pian piano si sta riprendendo e quindi sicuramente ci sono state meno nuove imprese insediate, però abbiamo avuto degli interessi, ovviamente non parlo della primavera 2020, però dopo l'estate, autunno 2020 ci sono state delle imprese, degli imprenditori che si sono interessati e poi lo scorso anno è entrata anche qualche società e anche quest'anno insomma diciamo che forse qualcuno mi ha detto, siccome sono rimasto a casa ho avuto modo di pensare e quindi di creare l'impresa, a volte ha pensato bene ma mi permetto di dire a volte non ha pensato più tanto bene. Allora parliamo appunto di questo nuovo asset che riguarda appunto cultura, creatività e turismo e subito come dire sgomberiamo il campo anche in questo caso da quelli che possono essere equivoci o come posso dire vecchie resistenze in qualche modo, nel senso che appunto l'immaginario collettivo vede realtà come la vostra, come posso dire più indirizzate verso la tecnologia, verso la scienza, verso l'economia eccetera che non verso una realtà come quella di cultura e turismo che va detto anche questo in città magari si stanno affacciando in tempi tutto sommato più recenti. Sicuramente ma qui devo dire c'è stata la lungimiranza della regione che ha visto che con la cultura si crea imprenditorialità e la regione voleva creare, vuole creare imprenditorialità con la cultura, creatività e turismo e quindi qua nel 2017 ha lanciato dei bandi per progetti nel campo sempre cultura, ICC, imprese creative, culturali e turistiche per vedere di aiutare le imprese già esistenti in questo settore ma di creare anche nuova imprenditorialità e quindi dal 2017 ad oggi sono seguiti tre bandi che sia verso imprese già costituite sia verso singoli cittadini, chiamati beneficiari che potevano realizzare le loro idee imprenditoriali e poi alla fine creare l'impresa. Qui non siamo stati soli perché la regione ha finanziato questi progetti, la regione gestiva, c'era l'area di ricerca che era quello che gestiva i soldi e poi a supporto di queste iniziative su tutto il territorio regionale eravamo i magnifici quattro, come li chiamo io, Bic Incubatori, Innovation Factory, quindi l'incubatore dell'area di ricerca, Frillo Innovazione e Polio Tecnologico di Pordenone, dunque quattro che collaboriamo devo dire molto bene su vari progetti che vanno dalla cultura ma anche dalla tecnologia, da innovazione, quindi mi permetto di chiamare i magnifici quattro, che ognuno si è preso alcune iniziative, noi nei tre bandi abbiamo seguito 13 progetti e anche gli altri 13, perciò in tutto sono state circa 60 progetti che sono stati promossi per un budget a disposizione di 4 milioni e così ho fatto stamattina il calcolo per essere un po' preparato, le 13 imprese che abbiamo seguito hanno avuto un beneficio di circa più di 800 mila euro per sviluppare la propria iniziativa, quindi devo dire che di cultura e di creatività, che poi la creatività insomma è in tutti i spazi, si può vivere, si può creare imprenditorialità. Noi giornalisti siamo sempre alla ricerca per forza di cose, di un fil rouge, di qualcosa che accomuna tutto insomma, in questo caso i vari progetti che voi avete seguito in questo ambito, come posso dire, presentano delle caratteristiche simili oppure ed è meglio in questo caso che siano le più varie possibili? Direi di no, è stato uno sforzo di creatività anche nostro, del BIC, di seguire perché ci sono state davvero, le iniziative sono state molto differenti, le prime due sono state due società già costituite, uno da parte di un architetto che voleva creare il museo virtuale con la realtà aumentata e tutto quanto e accanto a lui abbiamo seguito il teatro della Contrada che grazie a questo finanziamento ha potuto fare i sopratitoli sopra il palco, l'impianto Dolby Surround e poi anche la macchina per la valutazione lì, con questo qua abbiamo seguito come implementare, questi sono stati i primi due più semplici, qui ci sono quei totten che come ci sono, dici se ti è piaciuto lo spettacolo, ho capito per la valutazione degli eco, poi il secondo bando era già anche società già costituite che volevano sviluppare una propria, mi permetta l'inglesismo, una propria branch delle proprie attività e invece il terzo è stato sì, forse un comune demoniatore che in tutte le nuove iniziative è creare una piattaforma, che non mi piace il termine più, perché è un sito internet insomma alla fine, una piattaforma, è un sito internet dove poter… elegante piattaforma… sì, è più moderno, sì, è anche più pericoloso… sì ecco, è un sito internet dove fornire i propri servizi che andavano da organizzazione di matrimoni a vendere spazi per attività yoga e tutto quanto, a poi organizzare il tuo viaggio turistico a Trieste, poi la visita, questa è un'iniziativa anche molto interessante, visita proprio a Atelier dei Pittori, quindi anche lì, poi ho dimenticato qualcosa e poi ecco, diciamo due che erano un po' più differenti, invece un'iniziativa che si chiama Quovadis che ha organizzato il Google Map per gli interni e poi un'iniziativa che l'avete è anche ospitata qui, a Bui, che è quella di una ragazza del Camerun, no? Ah, come? Sì, sì, Sandrine, che ha la sua passione per la scrittura, per il blog, ecco che poi abbiamo aiutato a creare il sito Agora African con la possibilità anche di fare e-commerce con prodotti africani tramite… diciamo, eravamo noi dietro anche… È vero, era anche una bella… Anche quello, un sito Internet possiamo chiamarlo piattaforma, quindi ecco, diciamo che questo forse la base è creare un sito Internet e poi dare le basi, supportare per creare proprio l'impresa, perché di queste ultime sette idee imprenditoriali, tre si sono per fortuna trasformate in impresa e quindi già scegliere che tipologia di società S.P.A., S.R.L. o cosa… e poi una addirittura è stata iscritta tra le start-up innovative e dunque la particolare albo presso la Camera di Commercio dove si iscrivono le imprese che hanno determinate caratteristiche che vengono nominate start-up innovative, ecco… Secondo lei, diciamo così, la gente interessata a questo tipo di iniziative approfitta delle eventualità che vengono offerte dai bandi, eccetera… Cioè, ne sono a conoscenza? Sì, bisogna fare parecchia promozione, c'è il passaparola, c'è, se posso, proprio un piccolo aneddoto, 15 anni fa ci occupavamo di prestito d'onore, si chiamava, e andavamo a fare promozione per questi finanziamenti per nuova impresa, ero nelle zone obiettivo o due, quindi non a Trieste, soprattutto nella Carnia, e c'era grossa diffidenza perché dicevano che questi soldi arrivano da Trieste, arrivano da Roma, no, ma poi quando uno più coraggioso diceva, boh, io provo, faceva l'impresa, otteneva i finanziamenti, i suoi vicini dicevano, ah ma allora è vero, allora ricevevamo tante altre iniziative, quindi il passaparola funziona e soprattutto i pionieri primi dicono proviamo e se va bene… Sì, degli esempi, quindi direi che è questo, poi certamente vengono organizzati incontri di promozione, per tutti e tre i bandi ci sono stati prima degli incontri in tutte e quattro le province, quindi c'è stato, e poi ovviamente sono stati selezionati, devo dire, delle idee alcune davvero originali e che siamo contenti che sono andate a terra. Qual è la più originale? Ah, beh, questo qua mi sono fregato, non mi sono preparato su questa domanda, no, beh, direi che, beh, questa di Quo Vadis, che si chiama questa società, che sulla base di, non di internet, ma sul QR code, loro vanno ad esempio, perché sono stati selezionati? Perché la loro intenzione era andare nelle fiere, negli eventi, fotografare e poi tu con un semplice QR code potevi trovare la strada verso l'uscita oppure verso lo stand di una determinata società. E poi hanno fatto da chiavia, siamo stati noi al BIC, hanno messo questi QR code intorno al BIC così, adesso hanno un contratto con il Burlo e hanno fatto anche la fiera Olio Capitale e quindi... Sì, perché non è così, al di là di tutto non è semplice. No, no, io non ci capisco, hanno cercato di spiegarmi gli algoritmi che hanno usato, ho detto, no, sentite, tempo perso, io vedo che funziona, vedo che funziona e funziona non tramite internet, ma tramite QR code, ecco, quindi proprio perché è all'interno, diciamo, questa è veramente un'idea che ci piace, che è stata... La piattaforma ArtMap Italia che cos'è invece? Ecco, questa è quella che avevo accennato prima, che era quella piattaforma per prenotare le visite presso i pittori, gli artisti e tutto quanto. Ecco, anche questa è un'idea imprenditoriale molto interessante che ha permesso a vari artisti insomma, di poter trovare una piattaforma dove poter poi avere dei visitatori e poter diffondere di più la propria arte e tutto quanto. Devo dire però una cosa, quest'ultimo bando di questi sette, abbiamo firmato i contratti proprio per iniziare a febbraio del 2020, meno di un mese prima che ci fosse lockdown. Perciò è stato molto difficile, complicato e in alcuni casi, ahimè, si sono ritirati alcune idee imprenditoriali che purtroppo in tempi normali sarebbero andate ma benissimo, purtroppo non hanno avuto la possibilità di avere pubblico, di svilupparsi come l'idea imprenditoriale presentata che era magnifica in alcuni casi, ecco ad esempio quello dell'organizzazione dei matrimoni e visto che il progetto aveva un tempo limitato per realizzare, grazie però lì c'è stata la sensibilità della regione che ha dato delle proroghe, perché se no davvero non facevamo nulla, ha dato delle proroghe, infatti adesso si stanno chiudendo ancora alcuni progetti, ecco che alcuni sono andati avanti, altri purtroppo il lockdown li ha colpiti in maniera... Eh bisogna fare delle, sì, fare anche la mappatura di chi è rimasto colpito dal lockdown in questo tipo di problematiche, credo che sia abbastanza... Anche perché era proprio all'inizio, cioè un'impresa che magari era già avviata, magari in qualche modo poteva parare il colpo lì, ma proprio iniziare, cioè tu devi promuovere la tua idea, ma la promuovi a chi se non c'hai visitatori, se non ti puoi muovere, no? E se in quel periodo poi il tuo core business in qualche modo rimane bloccato, eccetera, insomma... Anche perché si richiedeva in alcuni casi di fare delle simulazioni, pianificazione economico-finanziare con questo è il nostro pane quotidiano, sulla base di dire, ma quando finirà il lockdown? Quando ritorneranno i turisti? Sì, come e quindi alcune iniziative, ahimè, con grossa tristezza abbiamo dovuto bloccarle. Ecco, per questo tipo di... rimaniamo in questo ambito, no? È la rete il luogo dove molto si sviluppa o non necessariamente? Beh, sicuramente la rete e i social media diffondono questo, diciamo, sono ormai diventati in maniera di comunicare, di promuovere tutto quanto, di vedere se hai avuto successo, ecco, in dubbio che la rete è la fonte principale, poi ad esempio il progetto Abui che si basa proprio su un blog oppure su un sito, lui diffonde le proprie idee tramite canali social, media, non su, ahimè, non sulla carta, ma su altri media tradizionali. Sì, si sviluppa tutto tramite rete, insomma, ormai. E gli altri ambiti invece di cui BIC si occupa, negli altri ambiti la rete è altrettanto, se non fondamentale, diciamo importante o un po' meno? Ma sicuramente, sì, guardi, su questo ogni tanto ne discutiamo, diciamo, ma è da anni che non stampiamo le brochure del BIC. Abbiamo nel nostro magazzino, abbiamo le brochure iniziali e quelle ultime, forse le abbiamo stampate dieci anni fa e abbiamo ancora scatoloni inutilizzati, ecco, quindi, perciò, poi io dico anche una cosa a mo' dibattuta, ma neanche tanto, negli ultimi due anni ho incontrato più persone online che dal vivo, tra i vari teams e tutto quanto è stato… Sì, sì, questo è anche un po'… Sì, quindi non c'è bisogno del cartaceo, insomma. Ecco, lei che ha, diciamo, in mente lo storico degli ultimi 23 anni, no? Sì, 99. Quando c'è stata la grande rivoluzione della rete? Subito già nel 99? Oppure un pochettino… Io dico subito già nel 99 perché ricordo perfettamente che io ho incominciato a servirmi della rete banalmente per acquistare film su Amazon nel 99 quando ho acquistato il mio primo DVD e poi così. Quindi, beh, immagino che non sia stato però così immediato l'utilizzo della rete per… o quantomeno che non sia stato ai livelli cui assistiamo adesso. No, sicuramente. Sono d'accordo con lei però nel dire che il 99, il 2000, il 2001 è stato l'anno della svolta. Ok. Anche, mi ricordo, per altre ragioni ho seguito anch'io lo sviluppo di internet, ad esempio andando allo SMAO di Milano, alla famosa fiera, e si parlava di nuova economia, new economy quella volta, anche il nuovo mercato in borsa si quotavano, però era ancora molto lento, soprattutto perché anche il collegamento internet era lentissimo ed era a pagamento. Poi quando sono includuti poi i provider gratis e poi la rete e tutto quanto, ecco che ha avuto, diciamo, nell'inizio, nella prima decada del 2000 sicuramente si è sviluppato. E io dico anche sempre lì la sfortuna, ad esempio, della realtà virtuale che si era sviluppata anche in quegli anni, Second Life, ecco, c'era, no? Che si diceva che si svilupperà tutto quanto lì, poi che invece è stata una bolla. Lì, dal mio punto di vista, si è conclusa perché non c'era la connessione veloce, no? Adesso Second Life non avrebbe successo perché ci sono tante altre cose, però adesso Second Life sarebbe stato più semplice svilupparsi perché quella volta la connessione era lentissima e Second Life non poteva sopravvivere. Ma, per esempio, secondo lei quando si era potuto immaginare, perché, di vedere dei film sul cellulare, eccetera? Io, come ho detto prima, dal 98-99 fino al 2004-2005 andavo ogni anno allo SMAO di Milano e mi ricordo, piccola parentesi, i primi anni tornavo a casa con borse di gadget e tutto quanto, l'ultimo anno forse un cappellino, una penna nel 2005. Però, a parte questo, mi ricordo, sarà stato nel 2002, che mostravano i primi telefonivi che facevi le videochiamate. Sì, sì. C'erano dei telefoni, videochiamate, detto, boh, sì, vabbè, chissà quando, adesso, cioè, neanche non li usi perché è una cosa che… I prodromi c'erano, quindi c'erano già abbastanza presto. Sì, direi che all'inizio del 2000 sicuramente, mi ricordo perché ho visitato il SMAO e c'era anche un'altra fiera a Bologna, il Future Show, anche quello era… ma quello lì è durato pochissimo, mentre lo SMAO è stato un po' più… c'erano dei stand enormi, la Telecom, mi ricordo, poi tutti i vari provider che iniziavano a offrire servizi e le varie compagnie telefoniche, la Nokia, penso che fosse proprio la Nokia la prima che metteva le videochiamate o quanto, boh, chissà quando, insomma… E invece poi, sì, per certi aspetti è stato un bene durante… Io mi domando sempre il problema che deve affrontare, per esempio, il cinema, perché insomma, vabbè, sappiamo quelli che sono… ci saranno nuovi bandi in… questo dipende dalla regione più che da voi, credo. Sì, qui mi permetto di dire che la regione, la collaborazione con la regione è stata ottima e questo non lo dico soltanto adesso in diretta, ma lo dico anche ai funzionari della regione perché si è cercato sempre di trovare delle soluzioni anche in situazioni che erano un po' molto complicate, per non dire un altro termine, ecco, molto complicate e la volontà della regione era sempre di risolvere al meglio per il beneficiario, perché si sa quanto un beneficiario, un proponente, un futuro imprenditore investe con la propria idea, con il proprio tempo, si innamora. Noi a volte dobbiamo fare la parte dei cattivi e dire guarda, lascia perdere che non è, però è difficile a volte convincerlo che effettivamente la sua idea no, perché ci si innamora tanto e vengono da noi e dicono non ha concorrenza la mia idea, no, aspetta un attimo, analizza un po' meglio… Magari è anche giusto che vengano così. Sì, sì, l'entusiasmo fa bene e anche a me piace di più seguire un imprenditore che magari è un po' raffazzone, ma lì però è coinvolto e che vuole fare qualcosa, piuttosto che quello che va piano e dice ma no, aspetta, faremo, trovo più soddisfazione, anche se a volte devo dire che alcuni per metterli in riga non è semplice. Quindi Bandi, la regione ha detto di sì, perché come ho detto ha iniziato dal 2017 a sviluppare questo filone di creare imprenditorialità nel settore della cultura e della creatività, non solo è stato anche creato il cluster delle imprese culturali creative che ci vede questa volta i magnifici 5 perché Capofila e Informest e poi gli altri 4 soliti che seguiamo questo cluster e stiamo sviluppando alcune iniziative per poter dare un contenitore a queste imprese. Allora siamo in chiusura, io ringrazio Edwin Beuk che è il responsabile dei servizi alle imprese del BIC per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, grazie per l'invito. Adesso devo fare alcuni annunci nel senso che questa sera ricordatevi c'è l'appuntamento con Ring, Ring è tornato con i consueti appuntamenti bisettimanali il giovedì e il venerdì, è tornato prima perché mi dicono che ci siano delle lezioni in arrivo, se sento qualcosa in tal senso per strada. Vi ricordo il telegiornale delle 19.30 e poi come vi dicevo l'appuntamento adesso subito dopo di noi con Trieste d'Arte, questo continua il nostro viaggio all'interno del Museo Winkelmann e questa settimana andremo a scoprire la collezione Maya. Grazie per essere stati con noi, Trieste in diretta torna martedì della prossima settimana alle ore 17.30. Grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.